Non mi risponde, io scrivo al Ministro. E da poi Ministro? Allora, Ministro, è Rosa Luzzo, io amo lì. Gagniamoci, colleghi, gagniamoci, scelta lei, voto una cosa, sa. Siamo qua apposta di afferire. Benissimo. Allora, cominciamo dalla collega Alnore, che vi ha consegnato una relazione sulla gita a Verona, piena di falsità. Eh, no, cara mia, le falsità le dite voi due. Io le parola di età. Ecco, ci sono i colleghi che possono testimoniare. Presidente, lei deve capitare, io non posso essere l'insultata così. Non è che concediamo, poi non mi restiamo sintetici o altre classi che mi ha detto. Bene, signora, vorrei comunque ricordare che a Verona non si è andata in gita. Si chiama viaggio di istruzione. La donna che va a cala non la chiama gita, perché lei e il consulino si sono divertite amare. Noi invece lo chiamiamo viaggio di istruzione. Ci siamo fatti in pega dal nostro consiglio, ci siamo ammazzati di lavoro. Presidente, io non è no, è un affare di chiaro che io non parteciperò mai più a scefini di questo senso. Io non mi sono mia, non posso essere deportato. Ora la nostra ora è che mi capisco. Ma lo faccio in tutto, non c'è delle pezzi per strada. E' un'epoca, un minuto, 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 un minuto. Io sono un professionista e non sono l'antidacturistica per scopermiare la categoria. Si muove il livello di costruzione. No, ma che cosa è, la FISBOR? La scatola che vuole! No, ma che cosa è, la FISBOR? 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 E' una vera chiara! Sì, una buzza di provolone, di salame, di vostra tenda, di scorreggio, di potestà. Ma lo vado a lovitare, prego!